Dopo aver visto le applicazioni dei limiti alla geometria ritorniamo al calcolo dei limiti stessi e introduciamo i limiti notevoli di funzioni trigonometriche. Il primo limite da cui partiamo e che non dimostriamo, la dimostrazione si può trovare online facilmente in qualsiasi testo che tratta l'argomento è il limite per x che tende a 0 del rapporto tra il seno di x e x. Da questo limite poi discendono bene o male tutti gli altri, quindi scriviamoci questo limite, limite per x che tende a 0 del seno di x fratto x. Questo vale 1. Abbiamo detto che non lo dimostriamo però iniziamo con gli esempi pratici. Scriviamo però anche il limite per x che tende a x con 0 del seno di f di x fratto f di x che vale la stessa quantità, cioè 1. E questo con la condizione che f di x tende a 0 se x tende a x con 0. Bene, vediamo subito il primo esempio. limite per x che tende a 0 di 1 meno il coseno di x fratto x quadro. Bene, adesso per questo e per tutti i prossimi limiti dovremo applicare delle tecniche per ricondurci al seno di x fratto x, oppure da una serie di termini moltiplicati, sommati, divisi, sottratti, in cui non pare il seno di x fratto x. Sostituiamo 0 e vediamo cosa succede. 1 meno il coseno di 0 è 1 fratto 0 al quadrato è uguale a 0 su 0, forma indeterminata. Riscriviamoci il limite, limite per x che tende a 0, di 1 meno coseno di x fratto x quadro. Ora, visto che abbiamo la differenza tra 1 e il coseno di x, moltiplichiamo per la somma. Moltiplichiamo per la somma a numeratore, dobbiamo farlo anche per denominatore, quindi moltiplichiamo per la frazione 1 più cos x fratto 1 più cos x. E questo è uguale al limite per x che tende a 0, al numeratore abbiamo la somma di quadrati scomposta, sappiamo che questo è uguale al quadrato del primo, quadrato di 1 che è 1, meno il quadrato del secondo, cioè il quadrato del coseno di x, e vale a dire coseno al quadrato di x. Al denominatore rimane x quadro e 1 più il coseno di x. limite per x che tende a 0, di 1 meno cos quadro x è il seno di x al quadrato, e questo ce lo scriviamo così, cioè sen quadro x fratto x, che moltiplica 1 fratto 1 più coseno di x uguale. Limite per x che tende a 0, di il sen quadro x fratto x quadro, possiamo scrivercelo così, seno di x fratto x al quadrato per 1 fratto 1 più coseno di x uguale. Ora, seno di x fratto x, quando x tende a 0 vale 1, e quindi abbiamo dal primo termine 1 al quadrato che è 1, che moltiplica 1 fratto 1 più coseno di x con x uguale a 0. Ma coseno di 0 è 1, e quindi dal secondo fattore otteniamo 1 mezzo. Il limite richiesto vale 1 mezzo. calcoliamo il limite per x che tende a 0 del seno di 3x fratto 3x. E visto che 3x tende a 0 quando x tende a 0, concludiamo subito che il limite per x che tende a 0 del seno di 3x fratto x è uguale a 1. Qui potevamo anche porre 3x uguale t quando x tende a 0, t tende a 0, e riscrivere il limite come limite per t che tende a 0 del seno di t fratto t, che ci ridà il limite notevole, e questo sappiamo che vale 1. Prossimo limite, il limite per x che tende a 1 del seno di x meno 1 fratto x meno 1. Visto che x meno 1 per x che tende a 1 tende a 0, ricadiamo nel seno di f di x fratto f di x che sappiamo che vale 1. Potremmo anche risolverlo, questo limite, con il metodo della sostituzione. Poniamo t uguale a x meno 1, quando x tende a 1, t tende a 0, e ricadiamo sempre, se lo scriviamo per questi primi limiti in modo da averli più chiari, ricadiamo, dicevo, che il limite per x che tende a 0 del seno di x meno 1 fratto x meno 1 è uguale al limite per t che tende a 0 del seno di x meno 1 che è t fratto x meno 1 che è t che è uguale a 1. Il prossimo limite è il limite per x che tende a 0 di 1 meno il coseno, attenzione, di x quadro fratto x alla quarta. Ecco, io per i precedenti limiti non l'ho fatto, però conviene sempre sostituire il valore per verificare se non si tratta di un limite notevole. In questo caso abbiamo, sostituendo 0, 1 meno 1 al numeratore perché il coseno di 0 è 1 fratto 0, quindi forma indeterminata 0 fratto 0. Possiamo procedere per risolvere questo limite ponendo t uguale a x quadro. Quando x tende a 0, t tende a 0. Quindi sostituiamo e abbiamo il limite per t che tende a 0 di 1 meno il coseno di t fratto t quadro. E questo è il limite che abbiamo calcolato in precedenza. Facciamo però tutti i passaggi in modo che ci esercitiamo. Moltiplichiamo per 1 più il coseno di t e dividiamo per 1 più il coseno di t. E abbiamo al numeratore, riscriviamo limite per t che tende a 0, 1 meno il coseno al quadrato di t fratto t al quadrato per 1 più il coseno di t. E questo è uguale al limite per t che tende a 0 di 1 meno coseno di t è seno al quadrato di t fratto t al quadrato e sappiamo che questo vale 1 per 1 fratto 1 più il coseno di t. 1 fratto 1 più il coseno di t quando t tende a 0 è 1 fratto 1 più 1 cioè un mezzo e quindi questo limite vale 1 per 1 per 1 mezzo cioè un mezzo. Limite per x che tende a 0 del seno di 3x fratto il seno di 4x. Ora x tende a 0 quindi anche 3x e 4x tendono a 0. Vorrei ricondurmi nella forma seno di f di x fratto f di x. Come possiamo fare? Dobbiamo riscrivere il limite per x che tende a 0 di seno di 3x fratto 3x per 4x fratto il seno di 4x. Ma visto che abbiamo diviso per 3x dobbiamo moltiplicare per 3x. Visto che abbiamo moltiplicato per 3x dobbiamo dividere per 4x. E questo è uguale. x fratto x fa 1 e quindi abbiamo una costante che possiamo mettere davanti al limite quindi 3 quarti del limite per x che tende a 0 di seno di 3x fratto 3x e questo sappiamo che vale 1 e poi abbiamo 4x fratto seno di 4x. ma questo possiamo descriverlo come seno di 4x fratto 4x alla meno 1 e concludere immediatamente che il limite vale 3 quarti per 1 per 1 e quindi 3 quarti. prossimo limite è il limite per x che tende a 0 della tangente di x fratto x. Qui riscriviamo la tangente di x come il seno di x fratto il coseno di x e poi 1 fratto x che è il denominatore uguale. Chiaramente se riarrangiamo la funzione come seno di x fratto x che moltiplica 1 fratto coseno di x, il seno di x fratto x quando x tende a 0 è 1 e 1 fratto coseno di x quando x tende a 0 è 1 fratto 1, cioè 1. Ultimo limite per questo video, limite per x che tende a 0 di 1 meno il coseno di x fratto x. Nel caso precedente, cioè della tangente di x fratto x avevamo una forma indeterminata, non ve l'ho fatto notare ma chiaramente la tangente di x per x uguale a 0 è 0 e il denominatore x era 0, quindi 0 su 0. Anche qui siamo di fronte alla stessa indeterminazione, cioè 0 fratto 0. Possiamo risolvere questo limite moltiplicando per x e dividendo per x in modo da avere limite per x che tende a 0 di 1 meno il coseno di x fratto x al quadrato e questa funzione la conosciamo per x. Sappiamo che vale un mezzo, però facciamo, ripeto per esercizio tutti i passaggi ancora, limite per x che tende a 0 di 1 meno il coseno di x fratto x quadro per 1 più il coseno di x fratto 1 più il coseno di x per x uguale. Limite per x che tende a 0 di 1 meno il coseno al quadrato di x fratto x che moltiplica 1 più il coseno di x per x uguale. Chiaramente qui è al quadrato, ho dimenticato il quadrato e quindi abbiamo 1 meno il coseno al quadrato di x che è il seno al quadrato di x e abbiamo limite per x che tende a 0 di seno al quadrato di x fratto x al quadrato che moltiplica 1 fratto 1 più coseno di x per x uguale. Il seno al quadrato di x fratto x quadro tende a 1 quando x tende a 0. 1 fratto 1 più coseno di x tende a un mezzo quando x tende a 0. x tende a 0. Questa è una moltiplicazione, uno dei fattori è nullo e quindi il prodotto sarà nullo anch'esso e questo è il valore del limite della funzione di partenza cioè 1 meno coseno di x fratto x quando x tende a 0. Bene per questo video finiamo qui, in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale, attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video. Se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetemi anche un like e vi ringrazio, condividete i suoi vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale perché no. In descrizione i miei contatti, mail, Instagram, Facebook. Grazie, un saluto a tutti e alla prossima.